Qua vediamo una bella immagine dell'arcobaleno. In realtà vediamo due arcobaleni, il primario e il secondario. Il secondario ha i colori invertiti rispetto al primario, infatti nell'arcobaleno primario il rosso è il colore più esterno e il blu viola quello interno. Nel secondario i colori sono invertiti, il rosso all'interno e il viola all'esterno. Il sole si trova alle nostre spalle, si vede infatti dall'illuminazione per esempio di questa casa. Tra poco vedremo come si forma l'arcobaleno.